Ciao, sono Alex e in Battistella mi occupo del picking del materiale. Durante la mia giornata consulto gli ordini dei clienti e preparo tutto il materiale necessario per i ragazzi in produzione. Ogni macchina ha una lista di articoli da prelevare e il mio compito è quello di non lasciare mai la produzione senza materiale. E infine stampo l'etichetta da applicare nei macchinali prodotti. Bene, da qui il mio lavoro è finito, ora i pezzi sono pronti per diventare una macchina. Grazie per la visione!